Tutto pronto per domani alle 18 Bottone e Foglia Tantissimi nuovi arrivi tra questi Domenico Marchetti Che ha seguito di poche ore l'ingaggio del mister Massimo Costantino Con il quale ha condiviso le ultime stagioni al Vigor Lamezia in C2 Classe 90 di esperienza e di sicuro affidamento Farà coppia al centro della difesa con Vincenzo Migliaccio Persone fantastiche, gruppo fantastico Il momento di ambientarsi subito perché il campionato è alle porte Vincenzo è un giocatore, non dico io l'esperienza di Vincenzo Ci vogliamo subito trovare il giusto input tra il reparto Ma che gara sarà quella di domani? Affronteremo in modo molto tranquillo Però nello stesso tempo in modo determinato Perché stanno a nuovi arrivi Vogliamo la qualificazione E cercheremo di far bene soprattutto in casa Perché c'è il nostro pubblico Con il centrale barese sono arrivati a Sassene Nelle ultime ore anche i centrocampisti Pizzuteli, Giuffrida e Franco E i difensori Caffiero e Funari Altro acquisto importante, manca solo una controfirma Quello del trequartista senegalese Yves Baraje, 22 anni, di proprietà del Chievo Lo scorso anno in Serie B con la Juve Stabia Si aspetta il nome di peso Quello della prima punta Ma il mercato promette di riservare altre sorprese Azzardiamo la possibile formazione della Torres Su un 4-2-3-1 del mister Costantino Testa tra i pali, imparato a destra Migliaccio e Marchetti al centro Minarini o il nuovo arrivo Funari a sinistra In mediana Bottone e Pizza In avanti Lisai, Santaniello e Rubino Con l'alternativa Foglia a sostegno di Maiorino Arbitrerà la gara il signor Daniele Viotti Della sezione di Tivoli Grazie per la visione